sono due no c'era l'altro giù, come se fosse un bilino termico guarda guarda sale beh forse non dovevo farlo oh la tocca grappolo me lo prendo bello si 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 prende ah aspetta facciamo pure un'altra cosa ci sta erbetta alto qua dico vabbè facciamo così oh ma non c'è più niente di come si chiama vabbè andiamoci ah ma c'è la tocca grappolo potrei buttare l'avanti ci stanno ancora no 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 infatti ma almeno lo sai mi ha capito perciò di via anzi ora c'è anche un attacco già c'è la la zona noi nel caso ci stava la macchina gas in movimento nuova zona sicura individuata si si non ci conviene a fare il bordello con la macchina a oh che mazzocca sto guardando dietro col termico se ne arriva qualcuno andiamo in safe e troviamo un posto chiuso allora prima di qualche soldo da me che se ti uccide una torna quanto gli devo dare buon mezzo contenere nemmeno è male beh no per niente oh oh vedo qualcuno è là sopra c'è i suoi due uapì nemico in volo e advence sparsi Sì 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 Ok Col termico e con il Sì Sì Sconsore Non vedo niente No Non è Wabi il nemico in volo Ecco Wabi è pericoloso che io non so nemmeno se c'è un fantasma la verità io sicuramente non ce l'ho si sparano vedo 1 a 39 metri forse il giorno e non più è andato verso sud siamo 51 c'è uno che sta giocando da solo tra i primi 50 magari è rimasto 30 squadre 50 persone tutti in due saremo 60 49 48 ma come scendono quindi adesso potremmo usare il negozio che abbiamo qua vicino ma devo prendere il nuovo virus uuuuh a terra terra andiamo a prendere il compagno eccolo qua morto c'è una cassa di munizioni ma no non cazzo prende lo si è prendo l'avvio e l'avvio dell'animazione ma se tu non mi dici soldi prende anche loro quanti ne servono aspetta 4.000 4.000 usalo quando abbiamo inserito attraverso se si ce l'ho io attenzione qua c'è qualcuno a sinistra si ho visto sei tu l'ho b no ci dobbiamo andare andiamo qua dentro qualcuno potrebbe venire proviamo questo qualcuno è rianimato si qua occhio ci dobbiamo andare cazzo ma hai detto per dritto vuoi dentro no porca no no dobbiamo la maschera ma si è andato se sia posso sia mia cosa mi serve un negozio se vuoi c'è più altro coraggio capito le corazzi vieni cielo io c'ho anche vieni qui ne ho una sola capito ma perfetto qui il suo sono spettatore sono quello che abbiamo ucciso asciutto dove del compagno di questo che stava tornando era lui che faceva pesce le anni del suo compagno ma alze la testa che ho fatto sparano qua vicino ci dobbiamo andare si usa l'obbio vabbè 24 nemici rimasti falli fuori tutti o avvia alleato in sorvolo avvio scansione radar c'è uno che viene da sinistra ecco ci potremmo andare a fare i due sul tetto no non penso proprio guarda dove stanno vado andiamoci a mettere più sotto ecco stiamo proprio sotto di loro adesso o andiamo sopra non ce ne andiamo a fare o non lo so io non ce l'ho madonna madonna ma stisena fasci aspettano le se butto un attacco grappolo qua butto vediamo che succeda eh però poi li non lo so e lo so attacco a grappolo vediamo che succeda vai vai madonna non l'ho preso ma mi chiede ma pure stavano qua non è che dice oh l'uccise chi mi ha mandato bravo, andiamo su veloce, andiamo su veloce si ma è nientato, bellissimo però me li pinga dell'altro col sensore si, vero ora no, ora si eh si mi sa che c'è altra gente sta arrivando la cosa a parte loro si gutteranno giù poi entriamo a 2000 occhio, che occhio ci sarà tempo esaurito, il contratto è annullato no, possiamo andare ancora più sopra forse ci va bene, usciamo sul tetto eccolo no, perché ti deve tagliare la mascherina oh, ti è mai nientato oh, c'è uno no, non è là, ok, a posto aspetta, è la mia ultima possibilità, soldato c'è uno, c'è uno, stanno venendo da noi stanno venendo da noi falli venire, falli venire no oh, no arriva l'autodiano si, si, si ha fatto come noi, preciso si ok, potrebbero entrare qua sotto, qua, no, c'è un sistema trofio l'ho messo sta la zona ho ucciso uno ecco, ce n'è un altro lì giù a terra un altro è a terra, però rimane lì allora vogliamo scendere qua sotto mi muovo di qua si, si, si vai mp7 sotto c'è uno a terra si eh, oh quello mi sentirei non c'è un altro non c'è uno, ce n'è oh, dov'è dov'è, catto bomba subito alla prima bellissima vabbè, ma tu hai fatto il fenomeno mamma mia bello, bello, bello eh, l'abbiamo giocato non c'è l'abbiamo non c'è l'abbiamo non c'è l'abbiamo